cara mamma come mi sembra insegnato prova ad aiutare il prossimo a dare un sorriso anche agli anziani che si sentono sopraffati da questi tempi ancora una volta io e te siamo distanti non per motivi di studio né di lavoro ma per proteggerti proprio come tu ha sempre fatto per me in tutti questi anni cara mamma ti scrivo per dirti grazie di tutto ti dico grazie per appoggiare in pieno ogni mia decisione a te che in questo strano periodo accetti tra ansia e paura la mia voglia di continuare a fare il volontario ancora di più grazie a te posso guardarmi allo specchio ed essere fiero di ciò che sono cara mamma tutte le persone che soccorro ogni giorno sono figli di qualcuno e molti di loro sono anche genitori anche se io e te siamo lontane tu a Roma io a Bologna attraverso di loro riesco a sentirti più vicina e stringendo le loro mani anche se coi guanti è come se potessi abbracciarti per questo voglio dirti grazie e che ti voglio bene grazie mamma, 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 Grazie.